Che cosa succede? Questa serata sarà un incrocio tra musica e parole, ci saranno le canzoni di Ego Kid, ci saranno dei miei racconti inediti che sono tutti a tema musicale. Non c'è un velo filologico ma se vi sforzate la fine sembrerà che ci sia. Cominciamo subito con gli Ego Kid e questa è la nostra via. E adesso siamo soli, due cuori e una capanna in centro, spero di arrivare più puntuale con l'amore acceso. Digitare il codice ed entrando e dirti sono qui per sempre e tu cosa vuoi mangiare? Ah, ma ti ricordi a Capri quell'estate senza amici, rinchiusi in una camera con vista su di noi. E l'aria balleare ci lambiva sempre complici, complici e stare a sentire o sentire che non sono qui. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non ho più il centro, voglio la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. la nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà. La nostra via è importante che ci sia, ma dal momento che non stai al centro, sogno la libertà.